Brutta notizia per Chris Hoy, il famoso campione olimpico, infatti di recente ha rivelato di avere purtroppo un cancro, un cancro terminale, i dottori gli hanno fatto sapere che purtroppo gli restano, gli resterebbero dai 2 anni ai 4 anni di vita. 48 anni di età, annunciato a febbraio di aver avuto questa tragica notizia, la diagnosi di questa patologia, sottoposto a chemioterapia, ha insistito però che il trattamento stava andando abbastanza bene, però ha fatto sapere che all'epoca la sua malattia era terminale, quando ha chiesto ai dottori quanto tempo gli restava, i dottori sono stati molto diretti, diretti quanto basta all'apidare, dai 2 anni ai 4 anni in totale, veramente poco, troppo poco tempo. Insomma una vicenda incredibile che arriva con un fulmine accessione nella vita del povero Chris Hoy, questo video di oggi termina qui, è un video che non vuoi eredere la privacy di Chris Hoy, ma solo informare i stop, nasce infatti solo per questo motivo, non per altri motivi, vicinanza a Chris Hoy.